E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Abbiamo requisito il carico. Andiamo. E' un'altra cosa. Andiamo. 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 attenzione e si sta, ribelle giù la samba la feccia ribelle si è ripresa quel carico si sta, ribelle carico prelevato proteggetelo ribelle hanno il carico fermiamoli carico alla base i ribelli non devono toccarlo mai più che 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 si pensavo crei che che chissà Sì, 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 sì. Il carico è stato prelevato dall'Alleanza. I ribelli sono in possesso del carico. Sì, sì, sì. Il nemico ha preso il carico. I ribelli hanno recuperato il loro carico. I ribelli sono in possesso del carico. Il carico è al sicuro. Il carico è finito in mano nemica. Il carico è tornato in mano imperiale. La feccia ribelle ha preso il carico. Distruggiamoli. Fuori! Sono ferito! Il carico è stato prelevato. Il carico è stato prelevato. Il carico è stato prelevato. Il carico è stato prelevato.